allora ragazzi bentornati al capitolo già col capitolo studio e approfondimento del modern electric bass questa dovrebbe essere la quarta puntata se non sbaglio la terza la quarta e volevo vedere esercizio che giacomo strage di genut al minuto 11 20 25 circa del video didattico dove fa questo pattern sulla scala di do maggiore in pattern di quattro note quindi partendo da sol in parte nella vita sulla scala punto maggiore di roma so fa mi quattro note intero verrebbe così le caratteristiche di questo esercizio oltre che l'importanza per la mano destra la coordinazione mano destra mano sinistra sono le vitteggiature vero giaco mostra a gelli la sua vitteggiatura quindi le posizioni che lui preferisce in questo preciso caso utilizza questo modo di suonare la scala della scala la chiamo posizione del viso indice che parte con primo dito metti la scala come sapete si può fare partendo dal minimo dal medio poi utilizza questa quindi anche per i pattern per l'esercizio lo fa in questa posizione altra caratteristica classico di giaco chiudere l'esercizio con qualcosa di musicale quindi prima fa vedere poi salgo se non sbaglio a terzine di ottavi tanto quindi do mi so do mi so e poi fa questi bicordi quindi do maggiore diciamo bas mi quattordicesimo tasto quindi sono il mi sul re e diciassettesimo col mino il do quindi do maggiore fa mi minore re minore do appoggiatore slide glissato do si maggiore do maggiore questo ci può dare tantissimi spunti almeno mi fa venire voglia di fare esercizi di infilarci qualcosa di musicale ad esempio appunto questi bicordi ci possono dare spunti per creare qualche linea di basso inserirle in qualche quindi semplici ricordi altra cosa fondamentale è quella che noi possiamo non limitarci innanzitutto alla scala di do maggiore quindi possiamo ad esempio partire da qui una volta arrivato al do scendo di semitono faccio la scala ad esempio di si si bemolle eccetera eccetera quindi poi le posso fare ascendere fare le stesse cose in alto tonalizzate qui pure state però attenti a quando aumentate di velocità tutte le note siano suonate perfettamente quindi senza tralasciare tralasciarne a qualcuna per strada o senza andare fuori tempo devono essere chiare quindi partite nettamente questa viteggiatura che usa lui che personalmente lo uso anch'io però non la pieta di oppure anche allungare esercizio per esempio oppure anche allungare esercizio per esempio fino alla quinta fino alla quinta bassa e ripartire magari da qui sono tutte idee che mi vengono sul momento e quindi anche voi potete inventare e quindi sviluppare ulteriormente questi tipi di esercizi sempre su questo su questo tipo di parte un po' più avanti nella nella video intervista Giacomo mostra anche le possibili variazioni in termini ritmici ovvero riesci a fare quattro note diciamo i gruppi di quattro note quindi sol fa mi re poi fa mi re do fa vedere anche lo stesso esercizio a gruppi di cinque ovvero quindi sol fa mi re do fa mi re do si quindi ragazzi prendete spunti da questi favolosi esercizi che ci ha lasciato in eredità il nostro mito Giacomo per prendere appunto per creare poi creare dei vostri e quindi inventare cose nuove e appunto se vi fa l'effetto che fa a me mi fa venire voi quando ascolto anche solo fare gli esercizi solo sentirlo fare gli esercizi viene voglia di mettermi a studiare e inserire appunto qualche elemento melodico anche esercizi puramente tecnici per oggi è tutto quindi ci vediamo al prossimo la prossima puntata di questo argomento se vi piace mettete un pollice in su mi ringrazio buona serata la prossima grazie 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 grazie